Non troveremo mai niente qui. Niente, non si vede niente. Andate. Andate. Allora, avete trovato l'anello? Ancora niente. Ci sarà almeno un metro di fango là sotto. Ovviamente nessuno di loro vuole buttarsi. Perché oggi l'acqua sia molto fredda e hanno paura delle correnti. Sei sicura di averlo perso qua? Sì. Offro cento corone a chi mi trova quell'anello. Avete sentito? Il direttore del Gran Hotel offre cento corone a chi ritrova l'anello. C'è qualcuno di voi disposto a buttarsi? In che razza di uomini siete, eh? Buttati, tu sei coraggio. Quanto tempo ho sprecato? Che cosa devo trovare per avere cento corone? Un anello. Che anello? Un grillante. Ma l'acqua è fredda. Ci deve tenere molto la signorina per costringere il direttore a spendere tanti soldi. Il camerino di cui ti avevo parlato. Il testimone di Venezia. Il nostro giovane Camarriere ha ragione. Abbiamo perso fin troppo tempo. Marco. Quattro occhi sono meglio di due, no? Bene. Cerchiamo il mio anello di fidanzamento. Se lo trovi tu, avrai cento corone. Prego. Grazie. Soltanto un pozzo di stoff. Soltanto un pozzo di stoff. Questo che diavolo è? Anche l'ha aperto il rispettore.